Hanno sfidato il coprifuoco imposto dal sindaco di New York, Bill de Blasio, le migliaia di persone che hanno manifestato contro la violenza razziale nella notte. I saccheggi e gli atti vandalici dei giorni scorsi hanno lasciato il posto a una protesta per lo più pacifica dopo che la procura del Minnesota ha aggravato l'imputazione da omicidio colposo a volontario nei confronti dell'ex agente di polizia che ha ucciso l'afroamericano George Floyd. Indipendentemente dalla razza, dal colore, dal sesso, dal credo, devono ricevere un trattamento equo da parte delle forze dell'ordine, dice il presidente Trump. Abbiamo visto tutti quello che è successo la settimana scorsa. Non possiamo permettere che accada. Speriamo che George stia guardando giù in questo momento e stia dicendo che questa è una grande cosa per il nostro paese. È un grande giorno per lui, un grande giorno per tutti. Parole quelle di Trump che arrivano da una casa bianca blindata dalle forze dell'ordine. Joe Biden, candidato democratico alla presidenza, attacca. Le ultime parole di George Floyd, non riesco a respirare, hanno fatto eco in tutta la nazione e francamente in tutto il mondo, dice Biden. Per il presidente cercare di mettere altre parole in bocca a George Floyd, penso francamente sia spreggevole. Nonostante la pandemia, il coprifuoco e il dispiegamento delle forze dell'ordine, la protesta del Black Lives Matter continua a infiammare l'America.